ciao a tutti come scegliere l'uomo giusto per te ogni donna diciamo ha il desiderio di trovare l'uomo giusto per lei per la sua vita per costruirsi una relazione sentimentale stabile spesso non riesce a trovare l'uomo giusto ma ne trova tanti sbagliati perché perché succede questo perché non riesce a trovare l'uomo giusto perché esiste una distonia una differenza tra ciò che vai a ricercare a livello logico razionale invece ciò che trovi per causa emozioni non allineate con la sfera logico razionale quindi l'uomo giusto è quello che la nostra parte logica la parte logica della donna desidera questo vale anche per l'uomo nel caso di una donna comunque noi abbiamo una sfera logica con la quale ragioniamo che è composta da che cosa è composta da valori e quindi non so se il tuo valore è la famiglia per dire l'uomo giusto per te sarebbe un uomo che ha questo valore in condivisione con te che vuole crearsi una famiglia vuol crearsi una situazione diciamo sentimentale stabile questo è l'uomo giusto poi ovvio che ci devono anche essere altre caratteristiche se l'uomo giusto per te quello che ti piace ha delle caratteristiche non so degli aspetti fisici delle caratteristiche so ognuno di noi dentro a un all'immagine diciamo anche estetica della persona che l'interessa quindi da un punto di vista logico uno potrebbe una donna potrebbe preferire un uomo alto un uomo fatto in un certo modo poi è ovvio che come dire un duplicato esatto della tua della tua immagine ideale non esiste però ognuno ha dentro di sé le caratteristiche che vorrebbe trovare in un uomo o in una donna cosa succede poi succede che invece la nostra parte emotiva va alla ricerca di tensioni emozionali cerca di far rivivere alla persona lo stesso tipo di tensione emozionale vissuta a suo tempo e allora cosa succede succede che magari ripeto da un punto di vista logico vuoi desideri un uomo che abbia diciamo voglia di costruirsi un nucleo familiare una relazione sentimentale stabile e invece ti innamori di uomini che sono libertini che non hanno voglia di fare questo uomini che vanno alla ricerca di avventura e basta perché ti fanno vivere delle emozioni forti ti fanno vivere emozioni quale ad esempio essere rifiutata frustrare quelli che sono i tuoi desideri ecco il senso di frustrazione di un desiderio genera una sorta di complesso di indegnità cioè ti senti indegna però sentirsi indegni da emozioni molto forti quindi noi dobbiamo renderci conto che l'unico modo vero reale per trovare l'uomo giusto e creare un allineamento tra la sfera emotiva e la sfera logica cioè la sfera emotiva deve iniziare a essere attratta anche dagli obiettivi che si possono avere a livello cioè la sfera emotiva deve essere attratta anche dagli obiettivi che si possono avere a livello logico e razionale e questo da cosa dipende questo dipende proprio da questo fatto dipende proprio da il voler diciamo rendersi conto che se non riusciamo a farci amica questa nostra sfera emozionale difficilmente riusciremo ad ottenere dei risultati per farci amica la nostra sfera emozionale dobbiamo in qualche modo darci delle emozioni è sempre sotto discorso dobbiamo imparare a darci ogni giorno degli spuntini emotivi ogni giorno qualche piccola emozione che ci possa consentire di raggiungere i nostri obiettivi ci possa consentire di essere felici ci possa consentire di poter ottenere dei risultati concreti nella nostra vita questo è è fondamentale quindi impariamo ogni giorno a regalarci delle emozioni a fare delle cose che ci piacciono darci anche delle piccole emozioni che piano piano vanno a creare a solidificare questa alleanza che è l'unica strada che ci permette poi di trovare conquistare la persona che desideriamo bene per questo video è tutto seguimi a iscriviti al canale seguimi anche sulla pagina instagram massimo taramasco e iscriviti anche al mio nuovo canale felicità benessere di cui ti posto il link in descrizione ciao grazie a tutti